Un saluto a tutti e bentornati all'appuntamento con i libri. Oggi è con noi una vecchia conoscenza, siamo sempre molto felici di parlare con le sue nuove produzione, ovvero Luca Martini. Benvenuto con noi. Ciao carissima Erika, ciao a tutti gli ascoltatori. Ecco, l'occasione e l'uscita del tuo nuovo romanzo, Il corpo della medusa, pubblicato da una casa editrice che è Readers for Blind. Ecco, una casa editrice molto particolare, come particolare è anche il tuo romanzo. Tra poco entreremo proprio nei dettagli e nella trama, però parlaci innanzitutto di come è nata l'idea di questo libro. Guarda, il libro intanto è nato, penso, nel periodo più proficuo per noi scrittori, anche se uno dei più terribili degli ultimi cent'anni, cioè quello del lockdown, il primo vero lockdown, in cui siamo stati costretti a stare in casa con i nostri figli a fare dad. E io, mentre ero con mio figlio a fare dad, parallelamente su questo portatile, cominciavo a scrivere questa storia, alla quale poi peraltro pensavo da tanto tempo, perché come sempre le storie poi nascono, come tu ben sai, non subito o immediatamente, o tutte di un fiato, ma prendono vita spesso da qualche seme che viene lanciato, da qualche stimolo, da qualche spunto. E io ne ho avuti principalmente tre. Intanto devo dirti, e possiamo dire già subito, che il primo tema trattato, anche se in maniera molto leggera e credo anche divertente, anche grottesca, è il tema della morte. Io questa cosa l'ho costruita attorno a un personaggio che non è il personaggio forse principale, ma gli va molto vicino, che è Amedeo, questo nonno, questa persona che dedica gli ultimi vent'anni della sua vita a prepararsi alla sua dipartita. Perché? Perché pensa che, insomma, come la vita, come la nascita è il momento più importante, la morte è il secondo più importante. Quindi quando arrivi a una certa età, insomma, ti devi preparare. Perché non puoi non essere pronto per andartene via. E lo fa in maniera molto leggera, nonostante la sua vita sia stata costellata da eventi luttuosi e drammatici. E io questa idea di questo uomo, con questa ossessione della morte, il primo spunto l'ho preso tanti anni fa, ma veramente tanti anni fa, quando vedi uno dei film che per me è rimasto uno dei grandi capolavori della mia vita, che è Io e Annie di Woody Allen. In questo film c'è una scena bellissima in cui Woody Allen è in libreria insieme a Diane Keaton e lui compra a lei dei libri e dice, devi sapere che io leggo solo libri che abbiano la parola morte nel titolo. E lei rimane un po' così, ma perché? Fa perché io credo che nella vita si distinguono due categorie di persone, quelli orribili e quelli miserrimi. L'orribile è quando ti capitano le sventure più grandi, non so, rimani paralizzato, sei cieco, ti manca l'udito, eccetera. Il miserrimo è tutto il resto, quindi devi essere fortunato ad essere miserrimo. È come questa cosa che è anche un modo divertente di affrontare questo tema, come fa sempre lui, è rimasto sempre in testa, cioè questo uomo ossessionato dalla morte. Infatti il mio protagonista compra libri solo con la parola morte, ascolta solo musica da, diciamo, da Requiem. E anche questo è un altro spunto, perché Lessi qualche tempo dopo un articolo che raccontava che erano stati scritti nella storia più di duemila messe da Requiem in musica. E c'era uno che ne aveva, un signore negli Stati Uniti, che ne aveva collezionati tutte le edizioni disponibili in commercio, che erano più di 8 mila. E allora io mi sono immaginato questo uomo con 8 mila dischi ordinati di messe da morto in casa. Penso che tipo deve essere questo. Il terzo stimolo mi è venuto, questo proprio durante la scrittura, quindi in fase di lockdown, quando ho incominciato a vedere quella meravigliosa campagna pubblicitaria che ha fatto la Taffo, per non fare pubblicità. La Taffo è questa agenzia di pompe funebri, che ormai ha tantissime sedi, che ha scherzato tantissimo sulla morte, quindi ha fatto cose grottesche, divertenti. Ne vedevo uno poco tempo fa e c'era questa barra su questa scrivania che diceva ed ecco a voi il vostro posto fisso finalmente. Cosa veramente che è un genio quello che ha sdoganato il tema morte in questo modo. Allora tutte queste cose insieme mi hanno dato l'idea di voler scrivere un romanzo in cui quello che poteva essere il secondo protagonista del libro, ma fondamentalmente anche il primo, perché nasce tutto da lui, fosse uno proprio ossessionato da questo tema, ma in modo gioioso, in modo divertente. E quindi da lì ho costruito tutta la prima parte del romanzo. Poi dopo cambierà completamente di ritmo, cambierà anche completamente di tema, anche se capiteranno cose anche piuttosto drammatiche. E ci sarà anche la terza parte, che è quella familiare, in cui ci sarà questo ritorno di questo padre che manca, diciamo, da casa da più di dieci anni. Questi sono un po' gli spunti che ho tratto nel tempo per scrivere questo romanzo. Ecco, ci ha introdotto in maniera fantastica questo nonno, questo personaggio molto particolare, che alla sua dipartita, diciamo, tra virgolette, finalmente, nel senso quando avrà compimento questa sua impresa, lascerà un'eredità un po' pesante al nipote. Pesante in ogni caso, nel senso, sicuramente dal punto di vista economico, quindi un lascito notevole e, dall'altro lato, pesante perché comporta, come sempre, anche notevoli responsabilità. E questo nipote che si chiama Andrea Nebbia. Allora, ti chiedo di parlarci un po' di lui, di che tipo è e se questo cognome, in qualche modo, è indice anche della sua personalità. Sì, Nebbia è stato scelto proprio appositamente come cognome da me, perché intanto mi piace moltissimo il suono. Poi perché Nebbia ti dà questa idea di qualcosa che non si vede, che non sai come attraversare. Quindi è un ragazzo di 25 anni che vive quel momento in cui stai ancora studiando, fai un lavoretto in un edicolo, aiuti un tuo amico tre giorni alla settimana, non sai bene cosa fare, avevi delle ambizioni da ragazzo, volevi fare il giornalista, avresti voluto lavorare nel mondo dello spettacolo, avere successo. Ti ritrovi in una città di provincia che casualmente è Ozzano dell'Emilia, dove io vivo ormai da più di vent'anni e mi interessava proprio far vedere questo personaggio che vive un po' nella sua nebbia e chiamarlo così mi sembrava anche la cosa più appropriata. Come hai detto giustamente tu, lui ha un'eredità pesante, pesante perché intanto ha un gruzzolo importante, stiamo parlando di un'eredità di quasi 5 milioni di euro tra liquidi immobili, però il nonno che è un simpaticone anche nella morte gli impone quello che giuridicamente viene chiamato un onere, cioè un compito che se non mette in campo, se non realizza, non gli permetterà di entrare in possesso dell'eredità, quindi dei soldi e anche dei beni. Questo onere è molto particolare, cioè lui deve spendere almeno un milione di euro in un determinato tempo per realizzare pubblicazioni necrologiche, mortuarie, quindi attraverso affissioni di cartelloni nelle principali città d'Italia e il nonno gli lascia l'elenco di tutte le città con le agenzie già contattate, pronte per realizzare la stampa. E lascia un testo strappalacrime in cui si dice appunto, non so, Andrea Nebbia annuncia la dipartita del suo adorato nonno a Medio Mezzetti e lo fa con una poesia bellissima e con un invito non alla vita, ma essere pronti per la morte. Questa cosa, quindi lui comincia a contattare le principali testate di giornali, fa stampare paginate intere su Repubblica, Carlino, Corriere della Sera, Roma, Milano, Firenze, Napoli, Bari sono invasi da questi cartelloni. Immaginatevi l'effetto che potrebbe fare vedere per Bologna, ad esempio, tutte le strade principali tappezzate da questi cartelloni con questo nome, chi è questo Andrea Nebbia. Questo capita veramente, cioè lui improvvisamente a causa di questo honor che riesce faticosamente ad adempiere, si trova ad essere un personaggio pubblico famoso. Sulla bocca di tutti questo nome Andrea Nebbia, chi sarà mai Andrea Nebbia? E quindi improvvisamente i giornalisti, le radio, le televisioni cominciano a contattarlo, per intervistarlo, finché addirittura non arriva la telefonata di colei che è un po' la madrina, la regina di tutti i salotti televisivi delle tv private. Questa Valentina D'Ambrosio che a Tele 6 ha una trasmissione seguitissima, di dubbio gusto, si chiama A letto con Valentina, potete già immaginare questi personaggi che vengono invitati sotto queste trine, queste lenzuola di seta in pose un po' lascive a parlare un po' di loro. Lui chiaramente ci va in trasmissione e si scopre un animale da televisione, da schermo, buca lo schermo in una maniera incredibile, tant'è che ha un successo notevolissimo e Valentina gli presenta il marito, che è, diciamo, il suo alter ego, diciamo l'uomo più potente della televisione commerciale, sempre anche lui a Tele 6, che ha questa trasmissione televisiva alla domenica e quindi, diciamo, conquista tutti e due, lo invita anche alla sua trasmissione, il successo è gigantesco e a questo punto i due si convincono che è un personaggio, è un cavallo su cui puntare, su cui puntare in un modo nuovo, nessuno lo ha mai fatto, una trasmissione sulla morte, ma anche qui è fatta in maniera divertente, pasta, folle, io non so, i funerali più assurdi, i riti più macabri, i gruppi che cantano le musiche più strane, ispirate tutte al tema morte e quindi lo trascinano, lo buttano dentro un mondo, il mondo dorato della televisione, che tanto dorato poi non è, perché è qui, diciamo, il secondo tema principale del libro, cosa sei disposto a fare pur di raggiungere quel successo che sogni, non è un tema originale, ma per come l'ho impostato credo che abbia un suo senso, perché da questa storia nascerà poi tutta la seconda parte del libro, il rapporto con loro, un cambio anche di ritmo narrativo, un cambio di tono narrativo, un avvenimento drammatico e qui si entrerà proprio nel vivo con la terza parte del romanzo, che però lascio nel mistero, perché sennò diciamo troppo. Sì, sono veramente tanti i temi toccati dal tuo romanzo, perché anche questa idea del ragazzo che arriva da un paese senza dover essere necessariamente quei piccoli paesini di provincia, ma comunque non abituato sicuramente ai riflettori della televisione, alla notorietà, ad essere in pubblico, insomma, è sicuramente un tema interessante da esplorare e capire come ci si trova e come ci si riesca a trovare all'interno di un ambiente di questo tipo, molto diverso, molto opportunista e forse anche poco trasparente. Ah sì, certo. Infatti il tema era proprio quello. Mi interessava, l'ho fatto partire dal mio paesino, proprio perché volevo creare un uomo ingenuo, un uomo ingenuo di 25 anni nella sua nebbia personale, Andrea Nebbia, che si trova catapultato. Improvvisamente lui nel giro di poche ore vede un sogno che aveva già abbandonato, che era quello poi di fare i giornalisti, di andare in televisione, di avere quel successo che negli anni, negli anni 90 sembrava alla portata quasi di tutti, no? Che invece poi non è assolutamente così. E quindi lui si ritrova quindi in televisione e volevo creare questa sorta di provinciale a New York, no? Questo provinciale che arriva a Milano, questa città che per lui è veramente una metropoli, quindi con le disavventure che avrà, di vario genere, e metterlo di fronte proprio a questa serie di compromessi, questa serie di decisioni o scelte che se fate in un certo modo, se orientate in un certo modo, potrebbero portarlo al successo. Cosa che lui farà, però saranno molte le cose che non torneranno? E quindi qui dovrà prendere un'altra decisione ancora che cambierà un po' tutto il corso della sua vita. Ecco, senza svelare troppo, diciamo che però un altro punto interessante del libro è anche vedere questi rapporti familiari, perché appunto hai accennato al nonno, ma hai accennato anche al padre, per esempio, che è assente. Quindi insomma ci sarà anche una componente personale, diciamo, all'interno di questa storyline. Assolutamente sì, la terza parte del libro, del romanzo, oltre a incorporare la seconda, perché nasce da lì, diciamo, è il suo punto di partenza, ma vede il ritorno e forse il riscatto di un padre, di un padre cristiano assente da troppo tempo. Immaginiamoci un personaggio un po' sui generis, fermo un po', come posso dire, negli anni settanta, non so, i capelli lunghi ancora, anche se brizzolati, la giacca di pelle, la camicia aperta davanti, un tatuaggio di un'aquila che esce dal petto, gli stivali, i pantaloni di pelle, la moto, non so, il chopper o il furgone, perché lui fa il commerciante, no? Fa questi mercati un po' in giro per l'Italia, dove vende antiquariato o similtale, spesso anche roba rubata. Quindi un personaggio veramente, diciamo, poco cresciuto, che è stato anche il responsabile dell'infelicità infantile di Andrea. E qui ci saranno un paio di flashback che ce lo ricorderanno. Ecco, questo uomo si trova però a avere questo ruolo di Deus ex macchina a un certo punto e sarà un po' in difficoltà, perché realizzare questo salvataggio del figlio non sarà cosa semplice, però sarà il suo punto di riscatto. E anche qui mi interessava molto vedere come un padre, e anche qui fino a che punto può arrivare un padre per salvare il proprio figlio e per riscattarsi da, diciamo, un passato recente di dieci anni non proprio brillanti come genitore. Questo era un altro dei temi, un tema che spesso c'è nei miei libri, quello dell'infanzia, soprattutto fotografato nell'età difficile o nell'età quella in cui non appari e vorresti essere, oppure quella in cui ci sei troppo e non vorresti essere visto. Cioè quella in cui comunque sei troppo piccolo per essere grande e troppo grande per essere piccolo. Qui siamo spostati di una decina di anni perché Andrea ne ha 25 di anni, ma in fondo potrei dire anche tranquillamente che molto spesso i 25 anni di oggi sono i 18, i 17 di una ventina di anni fa. I ragazzi spesso sono appunto in questa nebbia. Io ho voluto un po' rifotografare questo ragazzo che non ha ancora fatto il salto e che cerca di farlo ora troppo in fretta, in maniera troppo eclatante, forse anche troppo violenta per quanto possa essere pronto lui. E per citare un altro tuo libro, proprio al cui centro c'è il rapporto tra padre e figlio, mio padre era comunista che è uscito qualche anno fa, nel 2019, se non erro, per la casa elettrice Morellini. Anche qui al centro c'era un padre, un rapporto con un padre davvero particolare. Consigliamo ovviamente a chi ci segue di recuperarlo. Io adesso ho una curiosità, non sveliamo altro del libro, però siccome ci conosciamo da un po' e parliamo di libri da un po', ti ho sentito citare anche qui la musica. Ecco, tu hai curato anche diverse raccolte di racconti a tema musicale, a tema vinile. Ecco, raccontaci un po' questo tuo rapporto con la musica, che inserisci sempre in qualche modo nei libri. Guarda, la musica è veramente tutto. Qualcuno, non mi ricordo chi, disse che la vita senza la musica sarebbe un errore e lo credo assolutamente. La musica è talmente presente nella mia vita che non mi raccordo quasi più, perché quando, allora, o sono concentrato, scelgo i miei dischi, i miei vinili, oppure i miei cd e faccio un ascolto mirato, oppure anche quando lavoro, quando scrivo. Quando scrivo, ad esempio, io non ho grandi rituali, io non sono come Stephen King che ti racconta tutte le sue cose. Io sono una persona molto noiosa a questo punto di vista qui, perché nel senso che io posso scrivere un po' ovunque, basta che abbia il mio portatile, ma se mi togli la musica faccio fatica. Faccio fatica, un certo tipo di musica, chiaramente. Una musica un po' più d'ambiente, potrei citarti i musicisti straordinari che mi hanno accompagnato, non so, Max Richter, Olafur Arnalds, tutti di quella corrente neominimalista che comunque è di grandissima qualità, che secondo me sono ideali per scrivere bene. La musica qui è molto presente. Ti dico solo questo, perché quando avevo fatto la prima versione del libro mi sono divertito a raccontare. Andrea, quando entra in casa del nonno, dopo la sua morte, scopre queste collezioni incredibili di libri, di quadri e anche di cd musicali, dove mi ero divertito a citare tutto quello che era possibile citare in tema musica legato alla morte, qualcosa che conoscesse. L'editor me li ha stralciati quasi tutti, però ho voluto, ho voluto, ho chiesto, io ho preteso che rimanesse uno dei dischi che secondo me più belli su questo tema, che si chiama Funeral degli Arcade Fire, che è secondo me un capolavoro monumentale degli ultimi trent'anni della musica indipendente rock. Quindi se tu mi chiedi che rapporto ho con la musica, è talmente forte, talmente bello, che non riesco a non metterlo dentro in tutto quello che scrivo. Tant'è, e qui te lo dico, visto che ormai ci siamo, il 28 di aprile uscirà una nuova antologia che ho curato e che ho voluto, ho pensato negli anni dopo Vinyl, io curai un'antologia per Morellini che si chiamava Vinyl, storie di dischi che cambiano la vita, in cui il vinile era protagonista. Qui invece ho voluto andare nella parte un po' più proletaria, cioè se non avevi soldi per il vinile dovevi farti la copia sulla musica sette. E allora è nata Lato A, storie di musica sette, di registrazioni e altre diavolerie musicali. È una cosa a cui pensavo da anni. Sono riuscito a convincere Patrice Zurro di Arcadia, editore, che è stato veramente accogliente ed entusiasta. Ho coinvolto i miei compagni di merende storici, Alessandro Berselli, Gianluca Morozzi e Paolo Panzacchi, quindi siamo addirittura in quattro co-curatori, per portare a termine questo sogno che avevo da anni dopo Vinyl. Uscirà il 28 di aprile, ci saranno tanti racconti molto belli, faremo tante presentazioni e insomma credo che ci sarà da divertirsi con la musica. E sicuramente anche tanti spunti per ampliare le proprie vedute musicali o per riconfermarle. Io ti faccio invece un'ultima domanda a proposito del tuo ultimo libro Il Corpo della Medusa, ovvero che cosa ti piacerebbe che restasse di questo libro nei lettori una volta finito l'ultima pagina, una volta girato l'ultimo foglio? Ma come sempre spero in una reazione forte, non mi interessa il carino, spero che mi dicano mi hai fatto arrabbiare, mi hai fatto commuovere, mi hai fatto stupire, non lo so, che è quello che più o meno mi stanno dicendo. Con alcuni miei libri qualcuno mi ha addirittura detto mi ha dato talmente fastidio che l'ho buttato contro il mur mentre lo leggevo, ma ho dovuto subito raccogliere per vedere come andava a finire. Questa è una di quelle cose che io vorrei tanto. E vorrei tanto anche che restasse nobilitato un po' anche questo animale particolare che è la medusa, perché potremmo anche chiederci come mai ci sia questo animale. Non vi dirò perché lo scoprirete dentro, però voglio raccontarvi perché la medusa mi ha colpito e perché vorrei che restasse anche con voi. Perché l'ho scoperto, non lo sapevo, che c'è un esemplare di medusa che è immortale, è potenzialmente l'unico essere vivente, immortale sul nostro pianeta. Perché è capace di ritornare allo stato embrionale infinite volte di continuare a fare questo ciclo della vita. Questo chiaramente in condizioni ottimali principalmente se nessun uomo lo prende, lo stacca e lo uccide. Questo è Ea. E poi perché comunque la medusa è fatta al 98% di acqua, non ha muscoli, non ha ossa, non ha cervello, non ha cuore. Questo mi ha colpito ed è il motivo della medusa e scoprirete poi perché c'è dentro. Perché non avendo cuore non può soffrire, ma è anche vero che non può gioire. Ecco, io invece spero che la medusa, in questo caso, non solo non faccia soffrire, ma vi dì anche gioia nella lettura. Ebbene, con quest'ultimo mistero da svelare ci lasci alla lettura del tuo ultimo romanzo. Grazie quindi a Luca Martini per essere stato con noi e per averci parlato del Corpo della Medusa, pubblicato da Readers for Blinds. Grazie ancora per essere stato con noi. Grazie a te Erika, di cuore.